Una notizia di servizio e di solidarietà. È partita alle 7 una prima squadra della Croce Verde per portare aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia-Romagna. I volontari provengono da Torino, Vinovo, Candiolo, Piovesi, Ciliano, Murisengo e dalla Valle Cerrina e sono diretti al campo di protezione civile Ampas di Mirandola in provincia di Modena. Un altro convoglio partirà sabato 26 maggio. Grazie a tutti.